Bella a tutti raga e benvenuti a questo nuovo video siamo nuovamente qui su minecraft con Con quel povero lì e oggi sinceramente non so cosa dobbiamo fare Ma hanno ma ha suggerito francesco di andare in minira però non voglia riscavarne una perché vuol dire far diventare il video che non hanno gli usita estrema E quindi andiamo a cercarne una nonostante Eh raga scusate però sapete che c'è quella Ah no giusto era era un po' che non lo usa Quindi noi dobbiamo fare questo Che c'è bisogno Infatti Nicolas è andato in campagna una settimana Eh si bravissimo Abbiamo bisogno del copper Andiamo alla ricerca del copper No però abbiamo Un attimo eh Perché ti serve il copper? Eh il jackpack Electric jackpack Dobbiamo fare l'adventure circuit Che per fare l'adventure circuit c'è bisogno Polvere di pietra luce Lapislazzuli Pietra rossa E poi l'elettro circuit Che c'è bisogno Refinito iron Il copper cable Che roba complicata E la pietra rossa Per fare il copper cable C'è bisogno di Sei rubber E tre copper Quindi adesso ne abbiamo bisogno Un rubber Che però non abbiamo più Ce ne abbiamo solo tre E non bastano Quindi dobbiamo andare a cercare Quei bei I alberi famosi Vediamo Che punto siamo Se è notte e giorno Ah è quasi mattina Gli alberi di gomma Bravissimo Tipo la marrone Sempre là come al solito Nell'ultimo episodio Come vi ricorderete Eravamo andati a combattere Mi pare Sì Forse Non lo so Il mucchio Lo lasciate sopravvivere Sì Ah sì Ok bravo L'ho fatto sopravvivere L'altra volta Forse Anche questa Volta Perché Vabbè Amico Gli alberi Della gomma Come sempre La pagina di facebook Prego Come sempre Senza minimappa Prima o poi Te lo metterò a posto A perdere casa Ma questo qui Dovrebbe essere L'albero che cerco io Vediamo Oh sì Benomale Che culo Ne ho bisogno Mi pare Sì va bene Qui Qua 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 Ah mia Ho bisogno Altri tre Perfetto Ok Uno Già preso Vabbè L'albero Ce lo prendiamo tutto Sì va Quindi Grazie Molto Gendile Poi 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 E ce n'era solo una No Non male Wow Dai due Ne manca uno Ne manca uno Bello Uno 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 Te ne chi Uno Perfetto Grazie Adesso Vediamo Se lasciano giù Magari Il famoso Vabbè Ricresceranno Torniamo a casa Torniamo a casa Che ci voglio La casa la troviamo subito Mi ricordo La strada memoria Ci credi anche te Non vedi come sono convinto Lo so che la casa è qui Eccola Qui Perfetto L'ho trovata La faccia Un bel primo piano Della nostra casa Ok Quindi adesso Andiamo a cuocere Con la gomma E facciamo il cover Nel frattempo Io sto lavorando Io sto lavorando Che lo stai facendo? Sto pubblicando Sto pubblicando Su facebook Lavora Teron Fottiti Fottiti Ma giusto mi fa il carbone No aspetta Cosa mi fa? Sono arrivato Sono arrivato L'episodio 1 Di modcraft E mettiamo a cuocere Scusate ragazzi Scusate ragazzi Se nell'episodio Wizard 101 C'è scritto solo Wizard 101 Nel non episodio 1 Però Nicolas E' molto Wow Il rubberwood Se lo mette a cuocere Te lo trasforma In legno della giungla Tito della verità Tito della verità Bravissimo Bravissimo Ne frega A parte che Si trasforma lo stesso Dai ho cambiato il titolo Di Wizard 101 Episodio 1 O almeno scritto Episodio 1 Invece cosa avevo scritto Io ai tempi Wizard 101 Wizard 101 E basta Ok No tu non puo Ok perfetto Adesso abbiamo Il rubber Posiamoli Avremo bisogno Delle torce Quindi del carbone Che non abbiamo Ma adesso Ce lo facciamo Alla vecchia maniera Mettendo a cuocere il legno Ma raga mentre aspettiamo stoppiamo il video Ci vediamo appena abbiamo finito Ok ne abbiamo fatti un po' sette Spero che bastino Vabbè aspetta che finisco quello lì Ragazzi andate a vedere anche il nuovo episodio di Galaxy Life Episodio oscuro Eh si chissà quando avrà pubblicato sto video e tu gli dici vabbè Particolare Ah già era già metteragione No già era già metteragione Quindi Ne con i tempi siamo dei geni Allora ok Dove siamo? Quasi sera quindi Non è il caso Ah io Oh Oh ok Sì Riuscirò a beccare la porta Porta Ok Ok Mancano due video Mancano due video Mancano due video Mancano due video Quindi allora carbone l'abbiamo finito No perché c'è un altro qui Esatto No cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa hai fatto? Non lo so Cosa hai fatto? Ok Perfetto adesso facciamo qualche torcia Guardi prima qualche stick Ok Manca l'ultimo Nico Ok Manca l'ultimo Nico Oh 40 torce non bastano Nico manca l'ultimo Nico manca l'ultimo Ok Allora Ma che hai fatto qui? Hai fatto qua? Abbiamo un po' di legna No Ok Oh la Rubenwood Andiamo trasformando la tutta In legna Buona Quant'è? 64 e 5 Va bene Assi di legno della giungla E sì Nico io ho fatto eh Nico io ho fatto eh ma vediamo il tempo stoppiamo e aspettiamo un giorno io voglio sapere quanto tempo è al video direi di armarci cibo cilinico io sto rinominando tutti i titoli no vabbè quelli di minecraft erano buoni fidati non cambiare di bestia tu hai scritto minecraft tu hai scritto minecraft 1 cui c'è la storia la moro mai sto li sto cambiando tutto non è anche pietrisco bello siamo veramente messi male facciamoci un altro piccone andiamo la terra cos'è che non servirà partiamo all'avventura per di qua adesso vediamo che non troveremo neanche una cazzo di caverna non in acqua ecco io va bene vado senza caverna no vabbè a casa non si è già più all'orizzonte ma quando scrivi ma quando scrivi ma quando scrivi la tostiera scrivi in nostro goto oh giusto un po' di petrolio c'è qui ma non so come estrarlo vaffanbani aspetta però solitamente sono solo dettagli sono solo dettagli non so come estrarlo ma non so come raffinarlo sicuramente sott'acqua non c'è una abbiata minchia un tacchino non c'è una voglia di spiegare basta mi sono stufato di basta mi sono stufato di ok oh ma due tacchini qua 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 due tacchini qua 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 addio che gentilezza ma dai perchè trovo le mucche io voglio trovare una cazzo di caverna chissà dove è casa oh finalmente sti cazzo io posso volare voglio dire io posso morire ok raga mo c'è da stare molta attenzione perchè la qui possono sponare gente cattiva ma non è vero non spona gente cattiva ma non è vero non spona gente cattiva oh carbone gentili non spona mai nessuno perché non c'è un cazzo va bene piccone oh finalmente un po' di carbone ne prendiamo giusto un po' la sua sti rumori molesti di sottofondo parli con me no guarda con parli con me eh c'è la tv accesa non avevo notato eh c'è la tv accesa quindi è stato un flop totale a parte per un po' di carbone che mi sono già rotto di raccogliere nico quando vuoi che nico quando vuoi che poi ci metteremo a registrare qualcos'altro di cui non sappiamo cosa una caccia di caverna non chiedo chiedo molto fra prendiamo il tempo si veloci minuti poi ti ci voglio poi mi ci voglio rivedere a ritrovare caso ah io il ginocchio la caverna sognatela eh no troverò eh la cazzo di caverna solo pack paurosi bravo grazie scusatemi ancora una volta per come si vede male perché non abbiamo ancora cambiato sistema di vogliate che cazzo è la sei quello che c'è lì cioè eh ok abbiamo problemi nello scaricarlo scaricarlo adriana questa montagna qui è una perdita di tempo va bene ah io che è mi ammazzo da solo va bene commenta molto lei eh ha capito commenta molto oh dimmi che è una cazzo di caverna io sto aspettando te mi sogno io sto aspettando te perché mi sto venendo a piangere perché cioè mi stanno lacrimando gli occhi non per perché non trovo una caverna però sta figo dire mi vien da piangere non è vero non è vero minchia quando c'è bisogno una caverna non si trova mai ma invece non ce l'ha bisogno non trovi delle buche enormi sì va bene bistecca la mano scava tu scavi con le bistecche il deserto ma sì ma non mi sono morato manco il letto io se non mi porto neanche il letto e vado fino nel deserto scemo scemo perché cosa ti serve il letto per dormire a momenti perché cosa ti serve il letto scemo 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 se trovassi un villaggio adesso scemo scemo ma senza minima sarebbe una bella cosa sì ma senza minima sarebbe una bella cosa scemo xd ma forse ho trovato una caverna 4 un po' buono 6 alla faccia della caverna è chiusa c'è un calcio, c'è la malapena del carbone giusto c'è il copper? no c'è il mercato c'è il campionista che c'è il mercato c'è il mercato di una creativa non si vara cattivo francesco c'è il appartamento avete sentito rumori molesti costo giusto andiamo sulla cima della montagna adriana non vedo un cazzo non c'è niente mi ammazzo davvero? poco ci mancava davvero? ma è notte stai tornando a casa? no ho trovato una caverna ma è notte stai tornando a casa? vaffanculo no 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 madonna che? non puoi capire creeper? no i hate sabbia creeper? i hate sabbia eh? ah comunque guarda che ti sento male non guarda che ti sento male mi aveva scherzo per morire copre i cuori pezzo di merda adesso mi amore a cercare la caverna scavando non sei contento madonna no creeper è mica un caso creeper molto ad entrare scemo di uno steve cazzo steve cazzo è la caverna va scemo steve poi voglio vederne ad uscire cazzo è la caverna è un troppo caverna fa ancora la sabbia sta facendo anche notte vero madonna raga stavo a rischiare di morire ora c'è crepi ora c'è crepi davvero c'è crepi davvero oh cazzo è notte è la notte c'è tanta bella gente ok raga aspettiamo il giorno c'è tanta bella gente sono a 18 minuti del video quello che giorno si si io so che lunghino nico ma io voglio tornare la cazza lì vabbè grazie a tutti 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 Grazie a tutti